Secondo giorno milanese per Daniele Sebastiani e Luca Leone. Il Pescara incontrerà in particolare Inter e Juventus. Con i nerazzurri si cercherà di mettere un punto alla vicenda Coulibaly. L'accordo è stato già strutturato ma mancano le firme. Il centrocampista senegalese non è convinto di giocare solo per la primavera. L'incontro dovrà servire per l'ultimo sprint e strappare lo chiede il calciatore. In caso di nuova fumata nera, Juventus e Genoa sono alla finestra e potrebbero tornare all'attacco. Con l'Inter meno problemi ci saranno per la definizione delle cessioni dei baby biancazzurri, pompetti e peschetola e di quella del primavera nerazzurro Marco Carraro che arriverà a Pescara con la formula del presido con diritto di riscatto e controriscatto. Tarde invece ad arrivare l'ufficialità dell'operazione Scrignar-Caprari tra Sampdoria e Inter. C'è ancora un tire molla sulle cifre dell'operazione. Caprari, rientrato dalle vacanze oltreoceano, è a Milano e attende di firmare. Con l'ufficialità dell'operazione, al Pescara finirebbero circa 5 milioni di euro. Poi i dirigenti biancazzurri si siederanno a tavolino con la Juventus. Obiettivo chiudere l'operazione che porterà in riva l'Adriatico il centravanti Simone Andrea Gans. Non è escluso, come detto, che nel vertice non si torni a parlare di Coulibaly. Tra gli argomenti anche la mezzala ex Virtus Lanciano Mattia Vitale. Dopo lo stop all'arrivo di Vido e le difficoltà di arrivare al Primavera della Roma a Tuminello, i dirigenti pescaresi hanno virato decisamente verso Pierluigi Cappelluzzo, che arriverà in prestito dal Verona. Per lui sarà un ritorno e sarà il cambio di Gans, già compagno di squadra nell'ultimo anno, in Magliaellas. Prima di rientrare a Pescara, Sebastiano e Leone continueranno a sondare il mercato, alla ricerca di acquirenti dei pezzi pregiati dalla rosa biancazzurra, da Memushai a Benali, da Brugman a Zampano, fino a Biraghi. Con Zampano si può riaprire il discorso Chievo, che aveva già sondato il terreno la scorsa settimana. Il club di Campedelli vuole però uno sconto sulla valutazione del Delfino di 2 milioni di euro. Intanto il Pescara sta definendo un'altra operazione minore, che porterà in Abruzzo il terzino sinistro del Bassano Alberto Barison, classe 94, in uno scambio di prestiti che porterà Francesco Carcalis, di rientro dal Teramo, alla compagine Veneta. Nell'ultima stagione Barison ha giocato a Bassano fino a dicembre, per poi essere girato in prestito all'Arezzo fino a fine stagione.